Sicuramente siamo riduci da tre punti importanti per la nostra classifica, tre punti che all'inizio erano chiaramente inaspettati. Ci prendiamo anche questa prestazione che sono convinto è nata durante la settimana, durante la preparazione alla gara dove la grande attenzione che ci abbiamo messo ha permesso di comportarci per come tutti hanno visto contro la capolista, contro una squadra fortissima, contro una corazzata, una grande squadra. La prima in classifica dall'inizio del campionato e quindi siamo soddisfatti ma penso che quella preparazione lì sia anche una preparazione che avevamo fatto per le gare precedenti come abbiamo fatto per questa gara qui contro la Fiorentina perché per noi sono tutte partite che se non le prepariamo in questo modo qua per noi diventano veramente un qualcosa di impossibile da giocare. Ma si lavora per ottenere risultati, per cercare di fare grandi prestazioni, per cercare di arrivare ad un livello ottimale, cercare di essere sempre al top. Quindi preferisco queste settimane che venire a parlare qui dopo sconfitte brucianti o dopo prestazioni non all'altezza. Ci prendiamo questi complimenti che per noi sono finiti già alla ripresa della preparazione perché come dico sempre ragazzi bisogna subito accantonare, dimenticare e iniziare a pensare alla prossima gara come abbiamo fatto questa settimana, cercando di preparare l'ennesima gara difficile di questo campionato contro un'altra squadra di valore assoluto e speriamo di dare continuità a questi due risultati importanti e belli per noi e cercheremo di mettere in pratica tutto quello che abbiamo provato in questi giorni. Ma questo speriamo di riuscire a smentire anche queste valutazioni qua. Io come ho detto prima la risposta è che questa squadra deve subito archiviare, dimenticare e cambiare subito pagina perché ogni settimana è diversa da quella precedente. Ogni settimana è ricca di difficoltà e di insidie quindi non ci possiamo permettere nessun calo di concentrazione. Mi auguro che queste valutazioni, personalmente le sto sentendo adesso, mi diano e diano alla squadra quella carica in più per cercare di dare massimo e cercare di mettere in difficoltà la Fiorentina venerdì. Sì, stanno bene, hanno recuperato, i problemi sono alle spalle, però Zola, Piccoli e Ferrer sono alla prima settimana con il gruppo. Hanno fatto tre allenamenti con il gruppo, non spingendo al 100% e sono convinto che dalla prossima saranno a pieno regime, saranno a disposizione a tutti gli effetti iniziando già dalla prossima settimana. Quindi però siamo contenti di averli recuperati, i problemi sono alle spalle, iniziamo a recuperare i tanti giocatori. Perdiamo però per squalifica Bastoni e Derlic, che in questo momento stanno bene, però siamo in tanti, come sapete, è un gruppo numeroso. Tra qualche giorno recupereremo anche Terzi e Farias, quindi più siamo e più armi abbiamo, più sono contento sempre che il gruppo sia unito, sia compatto e che sia tutto in campo. Quindi per noi è importante e mi auguro di averli tutti al più presto. Mi aspetto una Fiorentina che chiaramente deve cercare di ottenere il massimo della posta in palio, perché lo dice la classifica, deve cercare chiaramente di forzare la partita, di cercare di attaccare, di vincere, di portare a casa questi tre punti, quindi una Fiorentina da affrontare, come dico sempre, con la massima attenzione, con quella concentrazione che in questo momento stiamo avendo, per cercare di non andare incontro a una serata spiacevole. Poi per quanto riguarda il mister lo saluterò molto molto volentieri, è stato il primo allenatore che mi ha dato piena fiducia, è stato il primo allenatore che praticamente mi ha fatto divertire, gioire, sono stati due anni spettacolari a Verona, dove abbiamo vinto un campionato di B, dove l'anno successivo in Serie A ci siamo tolti delle grandissime soddisfazioni, quindi lo riabbraccerò, lo saluterò volentieri e sarà un immenso piacere rivederlo. La speranza è quella dappertutto, non solo a Spezia, di rivedere i tifosi, di riabbracciare tutto quello che circonda le partite di calcio, perché il pubblico è un fattore, il pubblico soprattutto da noi, come sempre detto, è il dodicesimo uomo in campo, ti trascina, ti supporta, quindi personalmente mi dispiace che il primo anno in Serie A per loro non possa essere frequentato lo stadio, perché so quanto stanno soffrendo e so quanto manca a loro la propria squadra. Gli attestati di stima, l'affetto che ricevo mi fa un immenso piacere. Io sto cercando di ripagare con il massimo impegno, con la massima dedizione, con la massima concentrazione a tutto quello che cerco di preparare, cerco di far capire ai ragazzi, perché per noi salvaguardare quello che ci siamo conquistati lo scorso anno è troppo importante e speriamo a fine anno di riuscire ad ottenere quello che è l'obiettivo che tutti sogniamo e che tutti speriamo di regalare ai nostri tifosi.